ecco qui, questo è il tuo, mi ha dato la 10 e grazie, buona giornata buongiorno signora, buongiorno prego volevo dire che praticamente ieri quando mi ha dato il resto è a sbagliare di 50 euro guardi mi dispiace, non so proprio come aiutarla se fosse venuto ieri avremmo risolto il problema ora è il tempo, mi dispiace e va beh, vuol dire che ci fai dare con il tempo grazie, buona giornata giovane, giovane, no, un attimo, giovane